Sì, è stata veramente una notizia che ci ha commosso profondamente proprio perché un'iniziativa dei ragazzi è stata, quindi per noi è stato doppiamente commovente il fatto che dei ragazzi che non l'hanno conosciuto personalmente abbiano sentito comunque l'esigenza di fare questo gesto, di portare avanti in qualche modo la memoria di nostro padre. Loredana Bellizzi nel giorno dell'intitolazione della palestra del liceo colletta suo padre Gennaro, il primario della cartologia dell'ospedale di Fangipane di Ariano, morto lo scorso ottobre all'età di 63 anni. Loredana fa parte di una bellissima famiglia composta da mamma Teresa, conosciuta da Gennaro proprio ai tempi del liceo e altri quattro fratelli, una famiglia unita che ha la passione per lo sport, in particolare per il basket e per il calcio. Anche il compianto Mimo era un ex giocatore della Scandure. Il papà credeva veramente che lo sport avesse un fine più alto, soprattutto associato ai colori di Avellino, al bianco e al verde. Lui diceva appunto che quando parlava delle squadre dell'Avellino pensava al bianco, alla dignità e al verde, la speranza che erano caratteristiche del popolo irpino, quindi per lui lo sport non era una realtà fine a se stessa, quindi appunto l'idea di intitolare proprio la palestra assume un significato speciale perché sappiamo quanto lo sport fosse importante per lui. Presenti all'omaggio a Bellizzi, il fratello Mario e la sorella Anna Maria, il preside della provincia Reno Buonopane, il primo cittadino di Avellino Gianluca Festa e i rappresentanti che hanno fatto storia della pala spicchi in città, come le notti San Filippo e Freda e tutti coloro che gli hanno voluto bene. L'iniziativa promossa da Francesco Gengaro e Alberto Giordano, al live della quinta D del liceo Colletta, spingerà adesso la preside dell'istituto, classico Anna Maria Labruna, ad organizzare nelle settimane che verranno The Memorial, per ricordare Gennaro Bellizzi. Senz'altro, a parte la passione per lo sport e per il dottore che chiaramente i suoi figli hanno ereditato soprattutto per il basket e non solo per il calcio, la palestra del Colletta è frequentata da tante associazioni per cui senz'altro ci saranno altre iniziative in memoria del dottore. Il primo passo diciamo che l'abbiamo fatto e sono veramente felice di aver visto felici i figli e la moglie che loro hanno gradito fortemente questa iniziativa. È stato un momento di grande gioia per loro. Grazie. 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 Grazie.